Ho avuto dei buoni risultati nel campionato regionale che ho vinto e in cui mi sono sempre piazzato bene a ogni gara anche nella classifica assoluta. Ho avuto invece purtroppo più problemi nell'italiano, causa anche di due stop nelle prime due gare per problemi di salute e per problemi tecnici alla moto. Mi sono tolto un po' di soddisfazioni anche nel campionato europeo in cui ho chiuso ottavo. È un campionato molto duro, livelli veramente alti però ho fatto un po' di esperienza e diciamo che la stagione è terminata col trofeo delle regioni in cui la squadra Ligure si è piazzata quarta, la squadra era formata da me, Luca Rovelli, Andrea Casaretto e Luigi Maule. Devo dire che è stata una gara dura ma sono soddisfatto perché ci siamo impegnati tutti al massimo e abbiamo avuto un buon risultato alla fine. Quali sono le difficoltà nell'approcciare una disciplina come la tua molto particolare? Sicuramente l'allenamento che non è facile per niente perché la moto spesso quando si inizia a gareggiare a certi livelli non basta, bisognerebbe affiancarci della palestra così però non sempre è possibile perché il tutto è da conciliare con la scuola e oltretutto le gare sono sempre abbastanza lontano quindi bisogna partire il venerdì pomeriggio e star via tutto il weekend per il lunedì è difficile organizzarsi e organizzare il ritorno a scuola è un po' complicato. È un grosso impegno a livello temporale ma anche economico quindi ovviamente autofinanziamento e gli sponsor. Sì, devo dire in gran parte autofinanziamento, devo dire un gigantesco grazie soprattutto a Costa Ligure che è il main sponsor, nonché mio padre che dà una grossissima mano a me e soprattutto a me e a tutti gli altri ragazzi Davide Soreca, Danny Filippa Hertz e Simone Martini e poi ci sono altri sponsor come il frantoio Sant'Agata e devo ringraziare anche i meccanici Tino Marocco e Marco Grangetto e soprattutto il team manager Iarno Boano e il Pier Franco Muraglia che sono sempre presenti alle gare e ci danno una grossa mano a livello tecnico con consigli e aiuto nella preparazione della moto e cose varie. A livello invece di futuro qual è la tua ambizione, qual è il tuo sogno? Il sogno sarebbe forse parlare, cioè trasformarlo in un lavoro e forse chiedere troppo però riuscire a gareggiare a un livello non dico professionistico però sempre a un buon livello si parla quindi di un campionato europeo, magari qualche prova del campionato mondiale avendo anche poi un lavoro al di fuori di questo sarebbe già una grossa soddisfazione perché purtroppo l'enduro non è uno di quegli sport che permette di vivere con facilità richiede tanto sacrificio ma dà molto poco e se non si è all'interno di una cerchia ristretta che sarebbero i primi 4-5 piloti del mondiale è difficile camparci. L'enduro è uno sport che è molto praticato, è poco visto ma è molto praticato quindi a livello di immagine diciamo che è un mondo ristretto dove comunque noi siamo molto ben conosciuti ma la mola principale è comunque la passione cioè non penso che questo Ligure venda di più per via dello sponsor è che comunque è molto bello aiutare i giovani a emergere in questo tipo di sport che comunque poi non è l'unico sport che diciamo Costa Ligure segue e in particolare l'enduro è dovuto al fatto che sia io che il mio socio sia sempre stati appassionati e praticanti quindi quando c'è stata possibilità e quando c'è stato chiesto da Boano di diventare diciamo parte del team noi abbiamo accettato volentieri e difatti il team Boano di Costa Ligure nasce proprio per permettere ai giovani ai giovani che ne hanno voglia e che hanno talento di poter diciamo proseguire e comunque affrontare l'enduro senza dover dissipare le loro energie cercando di creare una squadra, cercare di crearsi un team perché comunque la squadra esiste e offre già tutto quello che è l'assistenza tecnica l'assistenza nelle gare, i meccanici e comunque tutta la preparazione e lo sviluppo delle moto viene fatto già dal team per cui il pilota deve solamente preoccuparsi di correre e portare a casa il miglior risultato possibile ha solamente l'impegno di curare la moto d'allenamento è una piccola struttura molto professionale che ha dato degli ottimi risultati già quest'anno perché Soreka è arrivato secondo all'Under 23 è arrivato decimo nella classifica finale al Mondiale con l'ultima bellissima prestazione al Mondiale in Francia dove è arrivato secondo in classifica è arrivato secondo di club nella sei giorni in Germania quindi è un vero talento che sta emergendo grazie a quello che il team gli ha potuto offrire così pure Simone Martini che ha voluto affrontare la stagione da professionista in un anno è arrivato secondo alla Coppa Italia ha vinto tantissimi in regione e fuori regione quindi si è tolto una bella soddisfazione è arrivato a dei livelli a cui non avrebbe mai potuto arrivare correndo da privato